Un po' diverso, ogni tanto si levano dei cori, grande Silvio, Silvio un solo presidente, vedete quante corona di fiori ci sono già sul sagrato, forse potete vedere anche nelle immagini che ho girato poco fa allo striscione con quella fase, sentite adesso, scusate. Io voglio dirvi che è una giornata veramente molto difficile.